prima domanda tra l'altro gettonatissima come mai ha intrapreso la carriera politica e come mai perché in realtà è quello che mi guida in tutte le decisioni che faccio la mia passione principale potrà sembrare strano soprattutto in questo periodo di antipolitica dilagante che però io ritengo in realtà che sia un antipartitismo c'è un antipartitocrazia c'è tutto quello che i partiti sono riusciti a fare per farci odiare la politica sono riuscita a tenere il mio amore per la politica ben lontano da dalle mani dei partiti e quindi rimane la mia passione proprio la mia passione guida della mia vita tu peraltro non solo sei stata hai studiato in italia sei stata in italia ma hai anche studiato all'estero e quali sono le differenze che tu hai percepito nelle tue esperienze negli stati uniti in francia rispetto alla politica come viene vissuta la politica rispetto all'italia non è così ingombrante come la politica da noi negli altri paesi non è la politica fare sempre le prime pagine dei giornali a dibattito in realtà l'economia la politica estera sono quelle che sono argomenti come la politica interna o forse anche più importanti penso semplicemente al criterio dell'impaginazione dei giornali ad esempio le mondo oppure se vogliamo citarne altri qualunque tipo di giornale e invece in italia da noi per la l'occupazione dei partiti del anche dell'informazione quindi in rai o qualunque altra cosa i partiti e i pettegolezzi e le voci di corridoio io la fanno da padrona che è chiaramente una politica distorta non è quella la politica la politica e quella visione quella delle battaglie delle campagne e del dei diritti umani in un paese del cambiamento climatico nel pianeta o delle decisioni economiche da fare invece noi costantemente siamo impegnati a sapere e cosa ha detto un gasparri di un cicchito un cicchito di umbersani e mi vien da dire e chi se ne frega chiarissimo chiarissimo peraltro era giuglioli stesso che ci raccontava in una delle ultime interviste che in italia praticamente per quella che è la sua esperienza la sezione esteri è la meno letta nei giornali assolutamente purtroppo in realtà mi viene da farlo anche a me nel senso che quando leggo le mond sulle mond ad esempio la politica estera è prima poi una pagina dedicata a quello che succede in europa e poi c'è l'economia una pagina soltanto è dedicata alla politica interna e poi il resto invece da noi viene il contrario la politica interna è sulle prime pagine partendo dalla prima e poi poi tutto il resto e anch'io quando trovo un'impaginazione del genere sono portato a dare meno importanza alla politica estera che invece chiaramente diventa eh principale se guardiamo al punto di vista eh degli altri paesi e anche solo se guardiamo un altro dato per i telegiornali perché poi alla fine parliamo di giornali ma in realtà gli italiani per l'ottanta per cento si informano guardando la televisione e i telegiornali italiani dedicano il 30 per cento del loro spazio alle informazioni politiche politica interna mentre eh i cugini francesi soltanto il 15 per cento quindi anche solo se guardiamo i dati e proprio del del dell'importanza che i media danno alla politica interna si capisce come eh questa dipenda dal dal dall'occupazione dei partiti dell'informazione non e quindi abbiamo un'informazione totalmente distorta ehm si è parlato spesso eh su intervistato punto com di eh giornali cartacei giornali online quello che ti vorrei chiedere è qual è mh la situazione del giornalismo in televisione fondamentalmente quello di dei telegiornali piuttosto che delle trasmissioni di approfondimento ma eh non è la situazione basta che leggiamo eh il naufragio dei giornalisti in Rai che eh uno a uno piano piano se ne sono andati dalla Rai moltissimi sono andati alla sette ma altri eh no e addirittura se una simona avventura se ne va dalla Rai e va a Sky eh lei che è la signora dell'audience perché eh ritiene che non vi siano gli spazi per lavorare e in Rai significa che eh la situazione è drammatica il problema parlando come se fosse una cosa che comunque lontana e non ci riguarda dimenticandoci che noi paghiamo il canone e della Rai che la Rai è la più grande azienda culturale del nostro paese è una delle più grandi in Europa vista la situazione attuale e dovremmo in realtà allarmarci e anziché urlare da una parte privatizzazione dall'altra eh occupazione ulteriore come dice Berlusconi che eh il giornalismo di sinistra è criminale dovremmo invece pensare seriamente a cosa fare eh i dirigenti in Rai sono scelti dai partiti rispondono ad altri criteri rispetto a quelli dell'informazione ma cosa ne sa un partito di come va fatta l'informazione cosa ne sa un partito di come deve andare un'azienda culturale ehm peraltro appunto ho visto che hai accennato all'esodo dei giornalisti da la Rai alla Sette ehm ti volevo chiedere secondo te che fine farà insomma che ne sarà di anno zero a questo punto? Ma eh in realtà anno zero per come l'abbiamo conosciuto il Rai è chiaramente finito e con grande dispiacere del pubblico l'ultima puntata e oltre otto milioni di telespettatori hanno seguito anno zero e quindi dato il loro affetto per un programma che sicuramente ha raccontato i fatti per come sono e nei prossimi giorni si vedrà quale sarà il il futuro di di Santoro penso che lo racconterà lui stesso. Chiarissimo eh quello che ti vorrei chiedere è quale pensi che sarà il tuo piano per il futuro? Se proseguirai nel giornalismo o in televisione o nella politica? Ma eh anche quest'estate ho lavorato e ho vissuto in diversi paesi con Torg di cui sono la responsabilità italiana e sicuramente il mio impegno con Avaz prosegue e ne sono molto felice e mi permette per esempio di essere a San Paolo a manifestare con le popolazioni indigene per salvare l'Amazzonia o di fare eh campagne per la libertà di informazione contro i vari bavagli di Berlusconi quindi sicuramente uno strumento preziosissimo e che voglio continuare a eh dare il mio contributo e mh per il giornalismo e per la televisione e questi sono giorni decisivi anche per me quindi sicuramente e questi giorni anche io deciderò il da farsi comunque ci sono delle delle proposte in ballo quindi sicuramente in questi giorni decideremo cosa faremo. Insomma chi vivrà vedrà come si dice. Chi vivrà vedrà sicuramente. Senti hai parlato di come viene vissuta la politica e della partitocrazia ehm mi sembra che la tua tesi la tua ultima tesi quella di dottorato sia incentrata esattamente su questo argomento. Volevo chiederti di spiegare più approfonditamente la tua visione in merito. Eh i partiti sono uno strumento novecentesco diciamo così che non reggono più eh sia la caduta delle ideologie sia eh agli strumenti che internet ci sta offrendo per organizzarci noi stessi cioè eh non è più il tempo delle decisioni dall'alto che piovono sui cittadini e che non possono contribuire quindi alle decisioni che vengono prese ormai eh le più grandi organizzazioni le più grandi manifestazioni e associazioni che abbiamo visto negli ultimi anni e non solo eh in tutti i paesi e anche in quelli dove ci sono le dittature sono nati su Facebook oppure sono eh stati diffusi attraverso Twitter. Ehm e questo andando oltre i partiti cioè cercando di scavalcarli cercando di scavalcare il loro immobilismo e organizzandosi per portare al centro del dibattito pubblico quelle che sono le questioni urgenti. Io penso che eh i partiti non reggano più alla eh alle necessità democratiche dei cittadini e che davanti a noi nei prossimi anni ci saranno enormi possibilità di eh organizzarci ai cittadini come attivisti e anche alle alle elezioni come eh liste elettorali e e quindi eh il mio studio con il dottorato di ricerca è proprio quello di capire quali possono essere gli strumenti che attraverso internet e possano superare i partiti. Beppe Grillo sicuramente in Italia è stato uno dei pionieri eh di questo campo penso eh al partito dei pirati svedese che attraverso ehm soltanto ehm politica che parte la privacy eh sia riuscito ad ottenere il 7% all'elezione europea quindi eh ci sono tantissime possibilità rimanere attaccati eh ai partiti e alle centinaia di milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti e alle liste bloccate eh è una cosa talmente anacronistica che infatti sta facendo scoppiare l'antipolitica nel nostro paese ma non solo. Eh mi sembra di aver letto tra le altre cose che una uno dei tuoi punti cardini insomma su cui hai passato la tua campagna elettorale per la segreteria dei giovani democratici era la democrazia interna nei partiti ehm qual è la situazione all'interno dei partiti italiani attualmente? Beh eh il bello è questo che eh la Costituzione all'articolo 49 delega ai partiti politici la partecipazione alle elezioni in modo democratico. Il punto è che eh quello che succede all'interno dei partiti è una cosa oscura e può eh essere anche una dittatura o una monarchia un'oligarchia quello che ci pare tanto non c'è una legge che dice quale debba essere la vita interna dei partiti e questo è un grandissimo paradosso che ha portato alla nascita di eh oligarchie potentati e ehm e una gerarchia e un un elitismo all'interno dei partiti che è il contrario del mandato che i partiti dovrebbero portare. Abbiamo quindi il popolo della libertà che eh vota il suo presidente attraverso un congresso di delegati che non si capisce bene come siano lì che votano il loro presidente per alzata di mano. Grande procedimento democratico. Ehm il partito democratico invece che è l'unico in Italia che prevede le primarie proprio nel suo statuto però eh ha delle primarie che tutto sono fuorché primarie legali e l'ho dimostrato anche con eh la mia candidatura segretaria dei giovani democratici addirittura reggio lì a mettere schede elettorali nelle urne e a fare di tutto per far vincere il loro candidato già designato perché poi c'è tutta una spartizione delle nomine che arriva a pioggia. E l'Italia dei valori che ha fatto del della legalità e il suo principio fondante ha il presidente Antonio Di Pietro che è in pratica irremovibile perché c'è eh l'ultimo articolo dello statuto che dice tutto quello che è stato spiegato precedentemente non vale perché finché c'è Antonio Di Pietro presidente Antonio Di Pietro rimarrà presidente sarà lui che deciderà i fondi che vengono distribuiti chi viene messo nelle liste elettorali e lo statuto e il simbolo eetera la Lega Nord ha un un'organizzazione di partito che ricorda un po' un'organizzazione e insomma l'organizzazione della Lega nel suo statuto prevede soltanto l'indipendenza della Padania e quindi tutto questo della democrazia loro non frega niente l'importante che si raggiunga l'indipendenza della Padania e quindi la situazione dei partiti in Italia è a dir poco sconvolgente ma in realtà non è illegale nel senso che non c'è una legge che prevede che i partiti debbano avere la democrazia al loro interno e questo porta a diverse distorsioni e se sommiamo questa condizione con le liste bloccate che vengono decise dai segretari che a loro volta vengono decisi in modo antidemocratico ci ritroviamo in una democrazia totalmente distorta. Che praticamente non dovrebbe neanche più chiamarsi democrazia a quel punto perché non lo è più di fatto. Una grande democrazia malata la nostra e devo dire anche presa in giro quando si va all'estero ci chiedono sempre ma come è fatto ad avere Berlusconi ma avete messo adesso in Italia purtroppo la situazione oggi è questa non è colpa di Berlusconi perché come insegna Pannella da anni Berlusconi è solo una grande conseguenza della distorsione del nostro paese speriamo di poter sistemare al più presto.